Siamo con il dottor Antonio Marziale, già garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria. Dottor Marziale, cosa ne pensa della cosiddetta scuola online e quali sono i suoi timori in vista del prossimo DPCM? Tocca alla scuola, adesso. Il prossimo DPCM toccherà la scuola. Non tanto per la scuola, perché gli operatori scolastici, dai dirigenti ai collaboratori, ai docenti, hanno fatto un lavoro durante l'estate micidiale per garantire le norme di sicurezza previste per il Covid. Il problema è per i mezzi di trasporto e si sta cercando di ammorbidire la linea della ministra Zolina che ferma sul non voler chiudere e su questo ha perfettamente ragione. Razionalizzare gli ingressi, fare la turnazione. I genitori, mi dispiace, si dovranno in qualche modo organizzare, nel senso che in qualche modo dovranno gestire tempi diversi. Chi va al mattino, chi va al pomeriggio, saltano un po' di regole, di norme che erano ormai standardizzate. La scuola la mattina, quindi il pomeriggio ce l'avevi programmato in un determinato modo. Ma è meglio così piuttosto che chiudere la scuola, piuttosto che immaginare di fare lezioni online. Guardate che il rischio che questi ragazzi si prendano è una forte depressione perché non socializzano. Si prendano un forte esaurimento nervoso perché stare attenti davanti a un computer è cosa molto diversa dal prestare attenzione fisicamente con l'empatia e anche l'antipatia del docente. Insomma, uomo a uomo, persona a persona, chiudere sarebbe veramente un voler masse depresse perché i ragazzi se perdono la libertà di socializzare perdono la testa completamente e poi bisogna curarli per altro. Quindi sono d'accordo assolutamente su una razionalizzazione degli orari, sul fare doppi turni, sull'organizzare diversamente, quindi i mezzi di trasporto alleggerirebbero il carico e quindi sarebbero più gestibili, ma assolutamente no alla chiusura, come è stato fatto per i mesi della scorsa primavera, della prima ondata di Covid, perché sarebbe veramente un disastro e non è scuola, è un surrogato di scuola, non sarebbe più scuola.